o che giochiamo un po questo è 7 giù lascia giù tutto non toccare niente che adesso andiamo di la e si lavora vieni con me vieni cipollino vieni vieni Teddy prendi Teddy 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 ti piace Teddy dov'è Teddy Teddy forza Opie prendi Teddy vieni che lo rimettiamo giù lo rimettiamo giù e adesso ne prendiamo uno bellissimo vieni con me vieni vieni con me che cambiamo ok ora un altro facile prendi bruco qual'è bruco è quello nuovo bruco ma si guardati hai preso quello che è giustissimo perché questo qui è quello che è giustissimo prendi Kettel prendi Kettel dov'è Kettel Kettel dai Opie Kettel forza forza dov'è Kettel prendi Kettel prendi Pinky prendi Pinky qual'è Pinky te lo ricordi quello lì è Fenny hai toppato Pinky prendi Pinky ma tu non hai voglia non mi stai ascoltando Pinky Prendi Pinky Dov'è Pinky? Maia! Bravissimo, bellissimissimo Hai preso Pinky Molto bravo Pinky